Il sindaco Francesca Valenti è la massima autorità sanitaria in città ed è anche il socio di maggioranza della società che gestisce gli impianti. Sull'emergenza spazzatura, oggi i consiglieri di centrodestra, con nota firmata anche da Cinzia Deliberto, attaccano il sindaco di Sciacca per il mancato controllo operato sulla capacità di smaltimento sia del centro di compostaggio sia della discarica di Contrada Salinella. Non è concepibile, evidenzia il consigliere Gaetano Cognata, che il sindaco di Cari, che la situazione che si è generata in città, non sia una sua responsabilità. Il sindaco, ricordiamo a tutti, è la massima autorità sanitaria, per cui tutto quello che succede e che riguarda la città dal punto di vista igieno sanitario, lei ha un potere al di sopra di qualsiasi normativa, anche per certi versi. Quindi lei può, sulle materie igienico-sanitarie, attuare tutte le azioni possibili e immaginabili, perché la città non può andare a una deriva di questo genere igienico-sanitario. Mancato controllo. Ricordo che il comune di Sciacca è socio di maggioranza, quindi maggiore comune per quanto riguarda il rappresentante, all'interno della Sogeir, abbiamo più del 30%. E quindi anche nei tavoli opportuni può far valere il peso dei numeri, il peso del controllo. Quindi gli impianti peraltro sono, ricordo, nel territorio di Sciacca, per cui non è possibile che appena due anni fa noi abbiamo consegnato alla città, ricordo nel finale della scorsa sindacatura, abbiamo consegnato una vasca nuova alla città. Questa vasca doveva durare almeno 4 anni, 5 anni, se rimanevano quegli standard di raccolta differenziata. Ma tutte le grandi città del lato, cioè Sciacca, Menfi e Ribera, hanno notevolmente aumentato la raccolta differenziata. Per cui questa discarica di fatto può durare tranquillamente per molto più tempo. Quindi il mancato controllo dove sta? Nel non controllare il fatto che la Sogeir apriva le porte della discarica a dei paesi fuori ambito. È chiaro che se tu fai entrare paesi fuori ambito la discarica si satura prima. Sui due impianti, peraltro, il centro-destra ritiene gravissimo che la Sogeir non abbia ancora trasferito la proprietà alla società di regolamentazione dei rifiuti. I consiglieri di opposizione sostengono che il sindaco avrebbe dovuto poi attivare quanto di sua competenza per evitare che si arrivasse all'emergenza spazzatura. Non è possibile che avviene l'assessore regionale e ci dice noi la situazione di Sciacca. Noi la conoscevamo da gennaio, però di fatto ci presentano una nuova istanza, la Sogeir, solamente ad aprile. Ma da gennaio ad aprile che cosa avete fatto? Cioè è possibile che a Sciacca casualmente ogni sabato saltava la raccolta dell'umido? Non era chiaro che era una problematica legata all'impianto. Perché nascondere queste cose alla città? Dite qual è la problematica affrontata. Amministrare una città di 40.000 abitanti significa prendere delle scelte. E se le scelte sono fare l'ordinanza? Bisogna fare l'ordinanza e se tu non hai il coraggio di fare l'ordinanza, a parte che non dovresti fare neanche il sindaco, ma se non hai il coraggio di fare l'ordinanza, fai come abbiamo fatto anche in passato noi, attenzione, perché ci sono stati momenti in cui noi non eravamo convinti di fare una certa ordinanza, ci sedevamo nei tavoli regionali e chiedevamo all'organo, in quel caso superiore, che è la regione, quindi è presente la regione, fai l'ordinanza, perché siccome non riguarda la discarica solamente Sciacca, ma tutti i comuni e l'ambito, la responsabilità non me la posso prendere io come sindaco, falla tu. E l'abbiamo ottenuta altre volte.